Sono trasparenti e grandi le meduse che si trovano lungo il bagnasciuga di Senigallia. C'è chi le schiva mentre passeggia e chi si diverte a sistemarli in fila, una vicina all'altra. Le meduse spiaggiate non stanno passando inosservate nella spiaggia di Velluto. Ecco il motivo per cui ci sono. È un fenomeno che si ripete tutte le stati a causa di un incrocio di correnti, del surriscaldamento un po' ovviamente dell'acqua che causa appunto questo fenomeno che è un fenomeno naturale. In acqua la loro presenza in riva. Non è assolutamente un problema per la spiaggia di Velluto. Su questo ci hanno tranquillizzato ovviamente anche gli uffici e quindi anche i biologi che abbiamo interpellato. È un fenomeno naturale a tutti gli effetti. Scongiurato anche il pericolo per i bagnanti. Le meduse che si spiaggiano assolutamente, ovviamente si spiaggiano e vanno a morire ma non creano nessun problema e nessun disagio alle persone.